Videtta torna dalla squalifica ma ha un problema fisico, così Barellini scala al centro della difesa mentre a destra c'è Lorenzoni per il parimenti infortunato Campaner. Alle spalle di Falomi, preferito all'ultimo arrivato Jukic, Bencini vince il ballottaggio con Mencagli per questioni anagrafiche nella linea che comprende anche Lunghi e Gerardini. Di fronte un ostiamare attrazione anteriore guidato dall'esperto De Sousa e che completa il tridente con Nanni e Mastropietro. La fase di studio dura oltre un quarto d'ora, i taccuini sono rinnovati al minuto numero 17. Da sinistra Mastropietro, pesca De Sousa in area, girata aerea sul fondo. Sulla stessa corsia poi eccellente sovrapposizione di carta che quindi si trova libero di crossare basso. Spazza Rossetti quasi sulla linea. Il vento condiziona più di un alleggerimento tanto che sul nuovo recupero bianco-viola è ispirato Mastropietro che esplode il destro a mezza altezza. Primo intervento di Cipriani, degno di nota, ma prima dell'intervallo è in agguato Cecuzzi che recupera la sfera al limite della metà campo, avanza e da distanza siderale piazza il destro a fil di montante. Giannini non ci arriva ed è l'1-0 per il Marzocco. La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione, ovvero con un gol dei padroni di casa. Migliorini crossa da sinistra, Falomi fa velo, arriva Lorenzoni sotto misura e facilmente gonfia la rete per il raddoppio. Il favore è restituito a Falomi poco dopo sulla palla, ferma sempre dall'out mancino di Gerardini. Tocca allo stesso attaccante l'ultimo tocco quasi da calcio a 5 ed è calato il trisse che chiude anzitempo la gara. I laziali subiscono il contraccolpo e ancora il centravanti all'occasione del poker, peccando di egoismo ed ignorando stavolta Bencini, concludendo fuori dallo specchio. Che gli ospiti abbiano mai perso la testa è confermato quando accade al minuto numero 19. Nanni chiede farlo non fischiato al limite. Il direttore di gara lascia proseguire ed il numero 7 manda platealmente a quel paese l'arbitro che risponde spedendo attraverso il cartellino rosso il giocatore sotto la doccia. De Sousa non si arrende però e sulla torre di Mastropietro spedisce verso la Porta Azzurro trovando la respinta di Cipriani che non vuole far diminuire il divario. La Sangio pecca di sicurezza come nella circostanza successiva quando lascia a carta spazio per il sibilante diagonale che si esaurisce oltre il montante opposto. I giri di lancette passano e si aprano praterie nella retroguarda viola. Parte un tiro al bersaglio iniziato e chiuso da Lunghi in due minuti. Nel mezzo tocca a Baldessi che è l'unico a chiamare al disimpegno Giannini. Da una mattonella gradita quindi Gerardini prova ad entrare tra i marcatori. Gli dice di no la traversa della porta laziale. Finisce così dunque aspettando la trasferta di Siena con un bel passo in avanti in classifica in prospettiva salvezza.